Oroscopo del giorno, martedì 25 aprile 2023 Ariete Amore, questo sarà un martedì festivo tutto da godere in amore, perché la posizione di venere sarà attiva in vostro favore. Tutto andrà molto bene sia per le coppie e sia per i cuori solitari. Lavoro Potrebbe esserci ancora una certa stanchezza per via di Marte. Visto che sarà un giorno festivo qualcuno potrà riposare. Toro Amore, la giornata amorosa andrà alla grande. Questo sarà un martedì sentimentale in cui le emozioni non mancheranno, anche se effettivamente i colpi di fortuna non saranno troppi per oggi. Lavoro Ancora buone opportunità potrebbero presentarsi sul posto di lavoro. Gemelli Amore, questo nuovo giorno di fine mese sarà buono per i sentimenti, perché la posizione di venere continuerà ad essere in congiunzione. Le emozioni non mancheranno per nessuno di voi, pure perché è single e invece vorrebbe provare un qualcosa di nuovo. Lavoro Lavorativamente sarà una giornata interessante, perché le stelle potrebbero regalarvi delle belle gratificazioni. Cancro Amore Amore, in amore tutto andrà bene, anche se non ci sarà fortuna. Per esempio, per i single, difficilmente ci saranno dei nuovi incontri buoni in vista del futuro. E la stessa cosa varrà per i single, per le coppie non ci saranno delle grandi situazioni. Lavoro La posizione di mercurio sarà favorevole. Chi lavorerà durante questo giorno festivo potrebbe avere delle nuove occasioni. Leone Amore Per voi questo sarà un giorno di fine mese pieno di belle emozioni, perché la posizione di venere sarà più che buona per voi. Anche per i single potrebbero esserci delle novità in ambito amoroso. Lavoro Potrebbero esserci discussioni e problemini sul posto di lavoro, con una posizione di mercurio sfavorevole. Vergine Amore Come c'era già da immaginarsi, questo non sarà un ultimo martedì di aprile troppo buono per voi. La posizione del pianeta dell'amore sarà sfavorevole. Potreste soffrire un po' a livello sentimentale, anche se siete single. Lavoro Gli incontri professionali potrebbero essere interessanti, anche se potreste avere qualche dubbio sul posto di lavoro. Bilancia Amore Questo nuovo martedì del pianeta dell'amore potrebbe portare una certa fortuna nei rapporti personali. Per chi ha un partner potrebbero esserci dei passi in avanti. I single potrebbero fare un incontro interessante. Lavoro Bene è mercurio per questa nuova giornata professionale, eppure giove non vi aiuterà in modo particolare oggi. Corpione Amore In amore ci saranno delle buone possibilità, la posizione di venere sarà infatti abbastanza interessante. E così potrete sperare in qualcosa in più, magari in un miglioramento in un rapporto. Lavoro Decisamente buona la posizione di marte per voi. Potrete giocarvi bene tutte queste energie. Tagittario Amore Le cose andranno maluccio in amore, perché purtroppo per voi la posizione di venere sarà decisamente opposta. Infatti questa giornata potrebbe portare a delle complicazioni per i sentimenti. Lavoro Lavoro Questa giornata sarà festiva, e potrebbe portare delle buone nuove, almeno per chi quest'oggi avrà del lavoro da portare avanti. Capricorno Amore Il martedì sarà un po' difficile, perché la posizione di venere non sarà affatto attiva. Proprio per questo motivo potrebbero venire meno le emozioni, sia per chi è in coppia e sia per chi ancora non lo è. Lavoro Mercurio sarà favorevole. Per chi invece si sentirà stressato dall'opposizione di marte, potrà approfittare del giorno festivo per riposarsi. Acquario Amore Una nuova giornata di fine mese, che potrebbe davvero regalare qualche buona emozione in più. Per i rapporti personali, molto difficilmente ci saranno dei problemi. Lavoro Molto bene anche per chi avrà dei compiti professionali da svolgere quest'oggi. Pesci Amore La posizione del pianeta dell'amore sarà nuovamente in opposizione. Purtroppo questa non sarà una giornata per nulla buona con le emozioni. E questo varrà sicuramente sia per le coppie e sia per chi è ancora solo. Lavoro Marte e Saturno saranno in una buona posizione. Questo martedì potrebbe portare a delle soddisfazioni. Se il video ti è piaciuto metti mi piace. Seguimi anche su Telegram per le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.